Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis, io sono Rob, sono un filosofo e questa è la mia spiegazione della trama di Stellar Blade. Voglio fare questo video innanzitutto per spiegare un po' quali sono gli eventi che muovono la trama principale del gioco. Ho letto un po' di cose in giro, non tutte precisissime e volevo quindi chiarire questo aspetto in più perché fa parte del percorso di copertura dei giochi che è partito con la recensione, diciamo, no spoiler, il commento no spoiler proprio al gioco. Poi la spiegazione, l'analisi di alcuni temi e dei personaggi, gli errori e poi ci sarà la recensione vera e propria con il voto. Quindi per me è necessario che ci basiamo su un terreno comune che è proprio questa messa in linea del tempo della trama che delinei gli eventi principali e che la spieghi. Ovviamente il video sarà totalmente pieno di spoiler proprio perché parlerò di eventi sia finali che magari anteriori a quelli proprio trattati nel gioco ma che si scoprono andando più avanti perciò se non avete giocato il titolo e non l'avete completato magari tornate al video poi successivamente una volta che l'avete fatto oppure se volete seguire la trama pur non giovando al titolo potete proseguire tranquillamente con il video. E si parte innanzitutto con il parlare del fatto che l'umanità all'inizio del ventiduesimo secolo si trova in gravi condizioni climatiche ambientali proprio di sopravvivenza e questo stato di sopravvivenza precaria li porta a cercare una soluzione. In particolar modo c'è uno scienziato chiamato Raphael Marx che poi noi scopriremo essere proprio l'Adam del gioco che decide di costruire quella che poi sarà la sfera madre una sorta di intelligenza artificiale anche se i connotati precisi della sfera madre non sono chiari li sto studiando ma di base non sono del tutto chiari sembra essere proprio un'intelligenza artificiale costruita per far progredire per il futuro dell'essere umano con l'idea proprio ben chiara di trovare una situazione, una sorta di previsione per il futuro e che cosa può portare il futuro di migliore. La sua visione però poi ciò che produce a livello di mutamento è quella di creare quelli che sono gli andro eidos cioè degli androidi fondamentalmente che sono più vicini possibile all'essere umano viene detto che vengono creati a immagine e somiglianza della sfera madre che siano simili all'essere umano ma ovviamente essendo anche in parte meccanici sono superiori sono superiori in tutto, la cella corporea permette di superare sia i problemi legati alla respirazione nello spazio e la respirazione in generale in condizioni precarie anche quella sotto l'acqua e in generale qualsiasi rischio di morte per malattie o per deperimento o per l'invecchiamento perciò esseri umani ovviamente ibridati, i meccanici che siano superiori in tutto quanto che siano superiori anche dal punto di vista generale, spirituale, questo non c'è dato saperlo di certo però sono in grado di provare emozioni o comunque di replicare quelle emozioni secondo me anche di provarle con un cervello, un'elaborazione diciamo di cervello che sia diciamo il più avanzata possibile e il più simile a quella degli umani che succede che però fondamentalmente dopo un periodo iniziale in cui l'umanità si ritrova essere in coesistenza con gli androidos, quindi l'umanità e gli esseri umani proprio di carne in coesistenza con gli androidos, la situazione sfugge probabilmente perché due specie così diverse di cui una è superiore all'altra proprio evidentemente non possono coesistere e da questa situazione si sviluppa una guerra che porta alla decisione da parte degli esseri umani ormai ridotti anche in parte in minoranza di cercare una soluzione laddove poteva essere trovata cioè qual è la differenza fondamentale fra l'uomo macchina androidos e l'essere umano fatto di carne sta proprio nella sua corporeità ed è proprio nella mutazione del corpo che lo stesso Raphael Marx nel momento in cui capisce che probabilmente le cose sono andate troppo oltre e quello che si è generato non era nemmeno quello che voleva lui decide di guidare una sorta di nuova modificazione dell'essere umano che lo trasforma in quello che poi sarà il Naitiba cioè l'essere umano stesso che fatto di carne compie una mutazione totalmente dedicata alla forza allo sviluppo della forza, allo sviluppo della possibilità di rivalza come forma di sopravvivenza ovviamente una sopravvivenza che però non è più una sopravvivenza umana perché l'essere umano non è più umano lo stesso Raphael Marx diventa il Naitiba antico cioè il primo Naitiba fondamentalmente a evolversi in un certo modo riesce però a mantenere la sua umanità e quindi fondamentalmente è ancora umano ovviamente si deve trattenere, è riuscito a non stravolgersi completamente a non mutare, a non trasformarsi in una bestia fondamentalmente incapace di controllarsi è totalmente dedicata alla sopravvivenza, al combattimento e alla lotta e quindi noi abbiamo Adam che è in realtà Raphael Marx che sta cercando nuovamente di trovare una soluzione nel frattempo il primo Naitiba che viene creato, quindi il primo Alpha che viene creato è Orkal che poi troviamo all'interno di Xion durante il gioco lui è il primo e anche lui riesce a resistere soprattutto in virtù del rapporto che ha con Adam che quindi sicuramente è riuscito a guidarlo, a mantenerlo e a dargli anche uno scopo nonostante il fatto che comunque si dica che ha ucciso parecchio, ha distrutto parecchi Androidos e vuole vivere una vita di redenzione proprio trovando spazio su Xion da questo punto di vista quindi ci ritroviamo, prima ancora che arrivi Eve con la soluzione che viene adottata dalla Sfera Madre nel momento in cui i Naitiba iniziano a vincere contro gli Androidos, che pensiamo gli Androidos non sono fatti per il combattimento non dobbiamo pensare agli Androidos come il corpo degli Angeli di Eve per esempio ma come una sottospecie di nuova umanità superiore ma che comunque non è fatta e costruita per il combattimento e quindi inizia a deperire, a perdere, fino a che addirittura il Naitiba non riesce quasi a raggiungere la colonia di esseri umani che insieme alla Sfera Madre sta nello spazio non si sa bene quale sia la posizione però e lì la Sfera Madre decide di impedire che la contaminazione dei Naitiba arrivi fino alla colonia facendo crollare parte dell'anello orbitale e questo porta la Terra in una condizione proprio totalmente devastata, totalmente distrutta ci sono anche delle altre questioni che si potrebbero raggiungere ma magari lo farò in futuro e altre dinamiche più filosofiche di ragionamento ma questo forse lo farò in futuro è importante però da qui comprendere qual è la situazione cioè un mondo in cui ci sono, sono rimasti degli androidos ai quali è stato detto e si sono convinti visto che non hanno più visto esseri umani di essere loro gli umani di essere loro l'umanità è stato detto che loro erano gli esseri umani la Sfera Madre così lontana, non più legata dalla rete non più legata quindi da una comunicazione costante diventa una sorta di divinità proprio perché lontana, proprio perché forse c'è anche un'incomunicabilità con la Sfera Madre e loro assumono il ruolo di nuova umanità perciò nel momento in cui anche Eve arriverà poi in futuro lei sa di essere umana ma non pensa di essere l'umana fatta di carne l'antenata umana di loro sa di essere meccanica, sa di avere una cella corporea sa di avere parti meccaniche anzi è convinta in questo senso di essere la perfezione realizzata da questo connubio macchina carne e pensa di essere esattamente l'essere umano che è l'unico essere umano che esiste cioè far parte dell'umanità come tale nel frattempo però ci sono questi Naitiba che non viene detto probabilmente perché in parte nemmeno la Sfera Madre ha questa conoscenza in parte per preservare una certa dinamica e il segreto che sta dietro a tutta la storia non viene detto questi Naitiba da dove provengono e quindi gli stessi Androedos quindi nuova umanità che si ritrovano sulla Terra che rimangono sulla Terra sono costretti a rifugiarsi in giro sono costretti a trovare una soluzione e a combattere continuamente o cercare di sopravvivere continuamente proprio con questi Naitiba che non si sa se per loro stessi sono venuti dallo spazio non si sa come sono apparsi ma fondamentalmente sono la loro minaccia principale la Sfera Madre nel frattempo però prova a sviluppare delle soluzioni non è ben chiaro quale sia il suo obiettivo finale io penso sempre in ottica evolutiva in ottica anche di cercare di trovare un futuro il futuro potrebbe essere l'eliminazione totale potrebbe essere tante altre cose e la Sfera Madre li tiene in considerazione tutti calcolando proprio il fatto che è un'intelligenza artificiale quindi ci troviamo a questo punto in una situazione di questo tipo Adam che è il Naitiba antico e anche Raphael Marx cioè quello che ha progettato la Sfera Madre vuole perseguire due scopi principali il primo è quello di salvaguardare Zion come forma di creazione di sicurezza di una città che lui stesso ha contribuito a fondare e a cui effettivamente tiene anche come obiettivo di redenzione per quelli che lui ritiene essere stati i suoi peccati non sappiamo quanto ci creda effettivamente quale sia forse il suo piano finale in alcuni messaggi viene detto che la società da lui fondata e lui stesso volevano avere un controllo molto ferreo sulla società molto ferreo sugli esseri umani volevano incasellarli volevano poterli controllare perciò le sue ambizioni iniziali non erano poi così positive forse effettivamente nell'attualità del gioco vuole essere redento e quindi ha cambiato anche idea però il suo obiettivo principale da un lato è quello dall'altro è cercare una soluzione che anche per lui possa essere una soluzione conclusiva che metta d'accordo sia il fatto che lui è un haitiba l'ultimo essere umano vero e proprio rimasto ma comunque modificato e gli andro eidos e tutta la situazione che riguarda la sfera madre la sfera madre nel frattempo cosa pensa? pensa di risolvere la questione inviando delle unità aeree delle squadre di unità aeree di combattenti dal corpo femminile donne combattenti tra l'altro questa potrebbe essere anche un'ispirazione alle amazzoni a tutto il mondo greco di cui si fa sempre sempre puntuale riferimento nel gioco magari ne parleremo nell'analisi decide di inviare queste squadre queste squadre di donne combattenti che hanno lo scopo assoluto di sconfiggere i naitiba alfa che sono diciamo di qualità superiore e trovare anche l'antico queste squadre non riescono fondamentalmente una in particolare che è la seconda cioè quella di Raven il personaggio di Raven inizia a comprendere la verità anche grazie al fatto che entra in contatto con Adam entra in contatto con Raphael Marx che la guida e cerca di comprendere se con lei è possibile sviluppare un piano che porti all'unione e a un nuovo sviluppo possibile tuttavia la scoperta della verità da parte di Raven la fa reagire diversamente da come Adam si aspettava e soprattutto la fa reagire con rabbia una sorta di disillusione dovuta probabilmente sia al fatto che i primi modelli di squadre di angeli mandati dalla sfera madre probabilmente avevano proprio lo scopo di essere molto più guerrieri molto più combattenti di quanto poi lo sia Eve e quindi molto più aggressivi anche nelle loro reazioni anche emotive e soprattutto perché comunque questa scoperta della verità la ferisce talmente tanto cioè sapere il fatto che loro non sono esseri umani come loro pensavano ma semplicemente creati dalla sfera madre che lei impazzisce e diciamo inizia a mettere a ferro e fuoco a un po' sviluppare una reazione rabbiosa che ovviamente fa sì che anche lo stesso lo stesso Adam non la consideri più come parte del suo piano e tutto questo va avanti per molto tempo finché la sfera madre non decide di attuare il protocollo Eve ora quindi dobbiamo chiarire questo e qui iniziamo ad arrivare al gioco vero e proprio protocollo Eve la protagonista si chiama Eve ed è chiaro che lei è prescelta lei è qualcosa di già preindicato se io attuo un protocollo non è che il tuo protocollo è Raven o il protocollo Taki attuo il protocollo Eve lei si chiama Eve è esattamente la prescelta quindi lei è prescelta dalla sfera madre innanzitutto con l'obiettivo comunque dichiarato che lei ha di sconfiggere il Night Heap antico e tutti i Night Heap alfa che ci sono quindi risolvere il problema in questo modo però lei è la prescelta nel momento in cui lei arriva nel piano di sbarco dell'unità aerea è evidente che sopravvivendo lei e Taki loro due sono sicuramente più importanti delle altre compagne che invece periscono in maniera anche abbastanza rapida Taki peraltro deriva dal greco si intende velocità lo dicono anche proprio le biografie dei personaggi proprio il suo nome Taki deriva proprio dal suo essere molto veloce ed è sostanzialmente una sorta di maestra per Eve e non solo è anche il primo motore che fa muovere l'emotività di Eve nel momento in cui arriva in Night Heap non identificato che poi scopriremo essere Raven modificata per essere Night Heap che peraltro Taki è convinta che lei volesse attaccare lei cioè che lei che Taki stessa fosse l'obiettivo di questo nuovo Night Heap in realtà lei attacca Eve forse perché capisce che è lei la prescelta è lei quella che effettivamente si vuole diciamo che Taki muore perisce in questo combattimento per proteggere Eve come se anche lei sapesse che Eve ha un ruolo importante Eve inizialmente è un po' spaurita quando combatte la stessa Taki gli dice è molto meglio che in addestramento quindi lei non è così forte come le altre o comunque lei non è così già di per sé in grado di essere una combattente eccellente è qualcosa che costruisce nel tempo e costruisce anche sulla base diciamo del suo desiderio di capire di voler distruggere in Naitiba proprio perché hanno ucciso Taki e lei è rimasta in vita lei rimane in vita perché arriva Adam che la salva e qua c'è da cadere subito cioè Adam che conosce Reven che vede anche Taki salva Eve salva Eve e basta Taki in quel momento non è ancora morta potrebbe forse salvarla invece lui decide di salvare Eve proprio perché probabilmente lei è comunque già evidentemente la prescelta e questa sua condizione di prescelta ovviamente a lei non è nota lei è convinta assolutamente di essere umana è convinta di essere umana quell'umanità che dicevo prima la nuova umanità cioè l'essere umano cos'è l'essere umano l'essere umano è un ibrido macchina e biologia che è assolutamente perfetto perché è in grado di fare tutto quanto e di sopravvivere a tutte le condizioni questa è la sua idea di umanità e tutti quelli con cui lei si relaziona sono assolutamente umani tanto quanto lei quello che va a scoprire successivamente anche dopo che viene liberata Lily che non è rimasta chiusa nella capsula per due anni perché poi scopriremo che ha avuto tutta la dinamica nel suo atelier su Eidos 9 e il rapporto con Iberis e tutto quello che c'è stato lei probabilmente è andata lì a mandare un segnale qualcosa ed è rimasta lì proprio perché è stata attaccata dal Nightiba ci ritroviamo quindi con Lily che si vede subito anche corporealmente che ha un ruolo diverso infatti è un ingegnere non deve combattere è in realtà l'ingegnere che in teoria ogni ogni combattente ogni angelo effettivamente ha che guida e che comanda peraltro Eve non ce l'ha o perché probabilmente è morta nello schianto oppure perché la nuova il protocollo Eve con la settima squadra non necessita di ingegneri semplicemente di forse di più avanzate più avanzati Androedos più avanzati angeli quindi l'arrivo di Lily fa sì che si formi una specie di trio Adam che nel frattempo sta comprendendo sta aiutando Eve per il motivo di trovare le Ipercelle e alimentare Xeon che poi si si vede nel gioco e Lily che ha l'obiettivo di dare supporto nella lotta contro contro i Nightyba perché è quello l'obiettivo è l'obiettivo che aveva anche Lily e quindi ci troviamo in questa condizione per cui all'inizio loro cercano di capire qual è la situazione trovano questa città che è Xeon in cui vivono delle persone considerate persone quindi considerati esseri umani che vivono con le loro situazioni le loro dinamiche e fanno riferimento a questa specie di profeta che è un intermediario che loro seguono che però gli ha indicato la via che sta cercando di mantenerli all'interno di una specie di culla adesso dobbiamo capire una cosa fondamentale rispetto all'essere umano che vedeva nella religione la maniera anche per dare un modo di sopravvivere alla propria anima alla propria parte spirituale che però non è mai stata individuata come tale e anche alla propria identità pensiamo alla sopravvivenza dopo la morte e al fatto che comunque si cerca di essere persone buone persone che quindi possono essere considerati tali dalla divinità soprattutto lo stesso discorso viene applicato con gli androedos quindi con la nuova umanità e che cosa in particolare le schede di memoria è fondamentale è fondamentale il concetto di memoria di schede di memoria nel gioco che sono diciamo sia la loro anima perché ciò che deve essere preservato e ciò che è immortale loro possono deperire nel corpo nel corpo biomeccanico ma le loro memorie devono vivere per sempre i loro ricordi devono vivere per sempre e si devono ricongiungere in una sorta di rapporto che li riporta al paradiso con la sfera madre e l'unico modo per mantenere alimentate queste schede di memoria mantenere alimentate queste persone è proprio la culla che però deve essere alimentata di ipercella ed è l'obiettivo che uno degli obiettivi che persegue Adam cioè quello di trovare le ipercelle e andando ad esplorare i vari laboratori nell'abisso e nella sommità l'Evoar dove appunto sono nati in Haitiba in parte per far conoscere la situazione anche a Eve in parte per recuperare le ipercelle che alimentano Xion e quindi questa è la dinamica un altro discorso che va fatto assolutamente a quello che riguarda il fatto che Eve capisce subito che c'è qualcosa che non va perché il primo lascito di Raven lei ascolta questa diciamo questa specie di registrazione di Raven che fa le sue scoperte che vedono quindi piano piano lei comprendere la verità lei da subito capisce che c'è qualcosa che non va e che c'è qualcosa anche che non va per quanto riguarda la sfera madre e tutto quanto il suo percorso è un percorso di scoperta in questo senso si potrebbe pensare che lei non abbia libero arbitrio che lei sia diciamo guidata dalla volontà di eseguire la missione non è proprio così perché da una parte lei si vuole assolutamente vendicare per quello che è successo a Taki ma anche capire in più se da una parte è Lily quella che per lei molto infantilmente perché Lily è anche un po' una bambina non può credere che la la sfera madre li abbia traditi come tutti loro non possono credere che la sfera madre li abbia traditi addirittura dire una cosa del genere è una blasfemia e Adamo un po' ci prova perché li vorrebbe mettere in guardia e vorrebbe anche diciamo togliergli quell'illusione con cui loro vivono quotidianamente tant'è che anche il suo modo di esprimersi molto spesso non è tanto dire questa è la verità ma effettivamente molti considerano la sfera madre come ingannatrice effettivamente non tutti credono cioè proprio per istillargli questo dubbio che forse le cose non stanno come la pensano loro ma è Lily quella che fino all'ultimo non crede ma c'è anche da considerare che però la sua amica e compagna Iberis o Iberis aveva fatto comunque un hacking aveva creato un dispositivo di hacking e perché lo aveva fatto? evidentemente c'è qualcosa da indagare in questo senso chissà se magari un ipotetico DLC non ci farà invece vivere la dinamica di Iberis con Lily perché non è impossibile nel senso il sistema di combattimento potrebbe essere molto simile questo poi è una divagazione ma concettualmente non è impossibile che si abbia un DLC che spieghi la dinamica la dinamica sua quindi finché loro non arrivano a comprendere i lacidi a capire tutto quello che è successo e noi possiamo capire che Eve fondamentalmente interiorizza tante cose e non le manifesta soprattutto nel momento in cui per Lily la scoperta del fatto che Adam era in Nightyb antico è qualcosa che la lascia di stucco mentre Eve fa quindi come sembrava eri proprio tu ma perché lei si chiede più che altro perché la sua capacità di comprendere non è qualcosa che lei manifesta con la sorpresa perché evidentemente la sua capacità di capire le situazioni le portano a dei ragionamenti che sono precisi nel senso capisco che il significato di questa cosa è questo non è che mi sorprende più di tanto è quello che di base mi aspettavo perché tutte le conclusioni logiche portano portano a questo quando loro vanno a prendere l'ascensore che li porta poi nello spazio il loro obiettivo è quello di trovare l'ultimo nucleo di Nightyb alfa per formare il nucleo preciso che serve per raggiungere il nido che è anche il posto dove si trova l'antico quindi il loro obiettivo rimane sempre lo stesso è la consapevolezza delle situazioni che invece cambia soprattutto perché attraverso i lasciti di Raven loro delle domande se le iniziano a fare soprattutto iniziano anche a capire ma già dall'inizio nel momento in cui loro raggiungono l'abisso Le War la prima volta quello che vedono a Eve non sembra un luogo dove studiare Nightyb ma più un laboratorio dove crearli lei però non dà soluzioni anche dopo quando Lily impazzisce nel momento in cui c'è la dinamica per cui comprende che forse loro sono stati creati e questo è un punto importante la stessa Eve dice questo ci viene detto da Raven non abbiamo tutte le informazioni cerchiamo di cerchiamo di capire e di andare avanti probabilmente è molto difficile capire qual è il grado di evoluzione psicologico di Eve e sembra un personaggio non troppo sviluppato però in realtà secondo me è un personaggio molto più razionale di altri ed è per questo che non comunica così tanto ovvio che però chiaramente a livello di qualità dell'esposizione non tutto quanto è perfetto il punto essenziale della dell'impatto che ha la conoscenza per cui loro sono creati e quindi vengono progettati dalla sfera madre è proprio questo cioè l'impatto loro non ce l'hanno nel momento in cui capiscono che non sono gli esseri umani non sono umani veri perché fondamentalmente ha relativamente poco senso cioè nel senso io sono un andro eidos sono evoluto e lo stesso dice lili cioè noi siamo umani perfetti un perfetto connubio di corpi e di macchine di innesti e siamo siamo perfetti non c'è non siamo come i naitiba che sono imperfetti proprio perché sono organici e quindi loro si considerano superiori come specie l'impatto non è tanto capire di non essere umani perché secondo me la loro la loro umanità anche per loro non risiede tanto nel loro essere organico o meno ovviamente sono superiori per forza i naitiba che sono diciamo un deperimento dell'essere umano solo indirizzato alla forza il loro problema cioè ciò che li colpisce effettivamente è l'essere creati è l'essere creati e questa situazione è strana perché se ci pensiamo l'essere umano reale religioso invece accetta anzi è una spiegazione che lo soddisfa quello di essere stato creato cioè che c'è stata una divinità dietro che ha scelto di creare proprio quella persona e quindi anche per questo si è devoti nei confronti della divinità questo non succede con gli angeli con gli androedos che nel momento in cui capiscono che sono stati creati è come se avessero una sorta di deperimento cioè come se questo li portasse a non essere così validi perché c'è stato qualcuno dietro che li ha creati non so se questo deriva dal fatto che nella creazione intelligente riconoscono un essere superiore ma pari a loro proprio perché comunque anche loro di base possono creare quindi non c'è questo grande scarto però è questo ciò che gli dà soprattutto impatto cioè il fatto di essere stati creati e in questo senso quindi che c'è qualcosa che che è sopra loro che anche se loro divinizzano come sfera madre ed effettivamente comunque il rapporto religioso con la sfera madre ce lo hanno il fatto che siano creati è ciò che li colpisce primariamente perciò su queste basi si arriva effettivamente poi alla situazione in cui costretti da questo Naitiba che ormai ha preso possesso dell'ascensore e che a livello di impatto meraviglioso nel senso è un mega angelo gigante però mutato anche lui che probabilmente forse aveva tentato di raggiungere la colonia ed era stato bloccato lì e quindi loro vanno a affrontare quel Naitiba alfa nel momento in cui lei viene sbalzata fuori e riesce effettivamente a sconfiggerlo c'è una scena abbastanza ad impatto in cui lei dice mi dispiace non posso prendere il nucleo è come a chiedere scusa tanto a i suoi compagni fra le stelle cioè non tanto alla sfera madre ma ai suoi compagni fra le stelle a Taki a chi ci aveva creduto e lei si rammarica di questo e l'importanza delle cose fra le stelle è proprio quella per cui Taki quando viene ripresa vuole che le sue memorie arrivino allo spazio per essere fra le stelle quindi una dimensione totale della propria anima un'anima che si espande totalmente ed è un elemento anche questo fondamentale della stessa anche che raggiunge anche la stessa Eve in questo senso nel momento in cui Lily chiede aiuto sono delle situazioni che sicuramente vanno studiate ma al momento in cui Lily chiede aiuto alla colonia alla sfera madre arriva questa esotuta meccanica potentissima che viene chiamata provvidenza che è interessante perché appunto quando chiede aiuto poi arriva la provvidenza la mano della provvidenza che risolve ma Eve rifiuta di dire che è merito della sfera madre cosa che invece Lily le dice no è che ci hanno ci hanno mandato l'aiuto capisci cioè comunque vogliono che continuiamo ma dice sei stata tu e cioè lei sviluppa una sicuramente un maggiore grado di affinità nei confronti delle persone umane come lei nel senso che considera umani come lei piuttosto che in quella sorta di divinità che la comanda perché altrimenti quale divinità vorrebbe che Taki muoia in quella maniera quindi probabilmente quando si arriva alla fine e diciamo Adam all'interno del nido pone la scelta di creare un'unione nuova un nuovo essere umano che sia l'unione di ciò che rimane del DNA che rende umano l'essere umano come patrimonio informativo che è rimasto solo in lui e in parte un'Aetiba che quindi diciamo non è non ha ceduto alla violenza alla rabbia alla disperazione e lei con il corpo migliore l'ipercorpo perfetto che utilizza proprio una struttura specifica cioè lei è corporalmente ma nell'unione forma e corpo è la più avanzata è la migliore di tutti ed è anche il motivo per cui a livello di estetico raggiunge la perfezione di quello che è il canone anche probabilmente sudcoreano nell'ottica di creare la cosa migliore possibile cioè qual è la razionalità sudcoreana che deve stabilire quali sono il canone perfetto cosa crea crea Yves ed è il motivo per cui esteticamente lei è in quel modo lì e quindi creare trovare la perfezione un essere che sia più perfetto dall'unione fra ovviamente Adamo e Eva Adam e Yves ovviamente con le dovute proporzioni e che sia qualcosa che possa portare con sé i ricordi genetici di tutti sempre tornare al discorso ricordi non tornare al discorso memoria e questo è fondamentale il primo finale che ho scelto è infatti proprio quello di accettare questo lei dopo che si genera se accetti lei si unisce diventa un unico corpo un unico essere con Adam il problema è che appunto la sfera madre decide di attivare Providence nel remoto con Lily all'interno e c'è uno scontro che si risolve positivamente se Lily si è portata alla consapevolezza e quindi ha permesso loro di recuperare i dati di Iberis e quindi hackerare la sfera madre in questo senso e questo per questo dicevo che era importante oppure si risolve negativamente purtroppo con la morte di Lily che è costretta a rimanere all'interno della tuta perché non si riesce a sganciare non riesce a separarsi e oppure se si rifiuta ovviamente c'è da combattere Adam che decide di comunque finire la situazione perché lui deve proteggere determinati valori che sta portando avanti appunto anche all'interno di Xeon e decide quindi di combattere con diciamo non una dinamica da boss fight finale quindi il finale in cui tu scegli di combattere contro Adam e di rifiutare l'unione una dinamica strana nel senso che lei dice io prendo qualunque scelta adesso in maniera libera proprio perché non sono più vincolata alla sfera madre voglio essere libera in assoluto perché viene da pensare che questo sia un finale positivo e non negativo perché lei si libera lei si emancipa da qualsiasi volontà che possa essere sia quella della sfera madre sia quella di Adam nonostante lei comprenda che l'intenzione di Adam è positiva e che anche come possibilità non è non è una possibilità negativa ma proprio in virtù di difendere la sua libertà lei deve decidere di evitare di accettare una proposta che le arriva dall'alto infatti la sconfitta di Adam è comunque triste e non negativa non ti viene la cosa di dire ti uccido adesso perché sei stato il cattivo di tutti no fondamentalmente c'è il rammarico lei si dispiace di doverlo eliminare ma è quello che vuole fare quindi ci poniamo in due casi fondamentali uno è quello se si accetta l'unione la sfera madre arriva sotto forma di bambina e qui c'è quello che dicevo anche inizialmente questa sorta di volontà di sondare delle soluzioni come visione del futuro chissà cosa ci riserverà il futuro le stelle non si comprendono del tutto c'è questa volontà dietro ma le dice che nel finale in cui lei si unisce ad Adam è delusa infatti fa piovere tutte altre membri di unità tutti altri angeli che però Eve con Adam che è molto più potente riesce a distruggere facilmente e quindi probabilmente ci sarà un continuo in questo senso dall'altra parte se si sceglie invece di rifiutare l'aiuto di Adam torna sempre la bambina come sfera madre gli dice che il finale è dolce amaro ma è un finale che accetta di più e se si sta con Lily si viene riportati alla sfera madre con una visione totale di questa specie di anello orbitale che prima era invisibile che si muove che sta intorno alla terra con l'obiettivo probabile di ritornare a essere tutt'uno con la divinità come se il loro compito è stato compiuto e quindi i loro ricordi con le loro essenze possono tornare alla sfera madre fondamentalmente quindi la trama è questa qui sicuramente ci sono da approfondire tantissimi aspetti li ho voluti mettere da parte proprio per non allungare ancora di più e perché sono quelli che vanno studiati meglio e sono molto più interpretativi ma la trama di base è questa qui fatemi sapere nei commenti se ci sono domande se vi ritrovate chi ha giocato al gioco in questo quello che ho spiegato se alcune cose non sono del tutto chiare ne parliamo nei commenti o magari in un prossimo video entrate nel gruppo telegram magari potete fare domande anche lì il gruppo è aperto quindi se volete potete entrare fatemi sapere qualunque cosa nei commenti se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale